Qua davanti, grazie. Qua un secondo per favore, qua un secondo da me, per favore. Grazie. Pizzà, troppo cuore! Dopo l'altro perché siamo al 26esimo piano e già presentare un progetto sociale in un luogo così particolare, che di solito non si occupa di sociale, è un'esperienza secondo me che dà il segnale del cambiamento. Per noi il cambiamento vuol dire costruire occasioni di lavoro per quei ragazzi, per quelle persone che sono dimenticate di solito dal mondo industriale, dal mondo commerciale, dalle aziende. In Italia ci sono sì centomila persone autistiche, sì centomila. Nasce un bimbo autistico ogni 77 bambini e le persone adulte autistiche inserite nel mondo del lavoro sono pochissime. Noi con i Pizza Autobus non solo ne assumeremo altre 70, ma vogliamo raccontare a tutti che si può fare, che si può volare alto, nel senso che i nostri ragazzi possono lavorare bene, facendo bene per se stessi. Vuol dire stare fuori dai centri di urgio, vuol dire stare fuori dalle case, vuol dire partecipare alla vita sociale, ma vuol dire fare bene anche per le aziende che decideranno di investire su di loro.